Sì, così, bravo! E allora Eleonora Giorgi è una super nonna con Gabriele, lo porta alla fattoria. Ci ricorda qualcuno? Ci ricorda i Ferragnes, guardo sempre la fattoria, anche loro sono là. E continuiamo invece con un video decisamente più glamour, cioè una clizia in corvaia, super forma. È sicuramente un video fatto per una DV, però insomma lei sa davvero benissimo. Ricordo sempre che questa ragazza qua ha sorpassato i 40 anni, deve avere 43 o 44 anni se non sbaglio, complimenti. E per la par condicio terminiamo con Paolo Ciavarro, eccolo qua. Bene, vi lascio in bottini, noi aspettiamo sempre gentilmente un like, magari un'iscrizione, un bacione grande, ciao!